Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negar. Perché questa canzone? Perché Zio Paperone compie 75 anni e per l'occasione ho acquistato Zio Paperone numero 54, il mensile dedicato allo zione, ma questo mensile è particolare perché appunto si festeggia oltre al Natale imminente, anche il compleanno del nostro zione preferito. Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi appunto sono qui per farvi vedere la mia ultima lettura, e cioè Zio Paperone numero 54. Eccolo qui, bellissima la copertina da parte di Andrea Freccero, e quello abbiamo Mario Perrotta. L'unica cosa che non sopporto di questa pubblicazione, guardate ragazzi, questo l'ho preso stamattina, guardate la copertina, non mi piace il tipo di carta utilizzato, la copertina è molto bella, anche sgargiante, brilla, insomma c'è praticamente Zio Paperone vestito a mo' di Klondike, che addobba l'albero di Natale con le pepite d'oro. Bella la scritta Zio Paperone, ovviamente. È un mensile a 3,70 euro, dietro avevi i titoli delle storie che andremo a leggere, ben 9, ci sono ben 16 pagine in più, con due storie mai viste, quindi due inedite in Italia, più una storia superstar. Ragazzi, questo mensile l'ho preso perché, ve lo dico sinceramente, non era proprio in previsione di acquisto, è andato in edicola per acquistare un fumetto Bonelli che seguo, Morgan Lost, ma non è ancora arrivato, è a ritardo di due giorni, vabbè, la Bonelli non si smentisce mai, in quanto ha ritardi nella distribuzione, ma questa è un'altra storia, e quindi poi alla fine mi sono deciso a prendere Zio Paperone per festeggiare questo che è uno dei migliori personaggi, secondo me, in assoluto, dei fumetti Disney, fumetti di Topolino. Non è il mio personaggio preferito perché io amo alla follia Paperino, cioè suo nipote, però Zio Paperone è sempre un grande personaggio, poi per il Natale del 1947, insomma, le appassionate di fumetti hanno ricevuto da Karl Barks un grande quanto forse inconsapevole regalo di Natale, la creazione di Zio Paperone, qui lo dice nell'introduzione di Marco Iafrate, il sommario con, a pagina 8, quando inizia la storia, Zio Paperone in un altro Natale sul Monte Orso, praticamente riprende la storia, la storica storia, scusate il gioco di parole, Paperino il Natale sul Monte Orso del dicembre Natale 1947, la prima apparizione di Zio Paperone, qui a distanza di 60 anni, il 25 dicembre 2007, nel Natale 2007, fu scritta una storia da Tito Faraci con i disegni di Giorgio Cavazzano e Sandro Zemolin, su Topolino 2017, fu proposta questa storia, che io ho letto per la prima volta perché non l'avevo mai letta, c'è un altro editoriale, cioè Ritorno alle Origini, molto interessante, mi è piaciuta molto questa storia, vi parlo solo di questa e non di tutti gli altri, perché questa è quella principale, devo dire che mi è piaciuta molto perché Zio Paperone avrà a che fare con il suo passato, tornerà nel Monte Orso, un salto spazio temporale, e devo dire che mi è piaciuta molto questa storia, ma anche quelle mai viste, insomma, le storie inedite che sono, diciamo, a pagina 40 abbiamo l'editoriale, c'è l'editoriale redazionale di Davide Del Gusto, che ci parla Buon Natale con Zio Paperone, ci parla un po' del rapporto che Zio Paperone ha con il Natale, nel senso che prima era, la prima volta quando appariva Zio Paperone era un personaggio un personaggio che col tempo, diciamo, l'hanno modificato un po' nel carattere, sempre un po' burbero, però un po' più, quando c'è da essere un po' più tranquilli, insomma, più amorevoli lo è, anche verso i propri nipoti, insomma, Zio Paperone è l'affare della fabbrica di Babbo Natale, che è la storia inedita, una storia di Sunil Trollstrup e Diego Bernardo, uscita nel 2018, ma in Italia è la prima volta che esce, così come quella pagina 51, un'altra storia danese è Zio Paperone e Paperino e lo scambio di Natale di Pietro Bizzemelo e Andrea Ferraris. Queste sono le storie inedite in Italia, qui inizia l'altra storia, molto belli i disegni, insomma, storie classiche di Zio Paperone, ha a che fare anche con Rockerback, ha a che fare con i nipotini, ci sono poi altre storie che vi vedo soltanto a menzionare, altri editoriali tipo La Slitta della Memoria, pagina 103, che è un altro, più che editoriale, redazionale, qui ci parlano un po' di tutta la storia di Zio Paperone, le storie in generale, anche vecchie copertine, insomma, molto interessanti questi redazionali del mensile Zio Paperone, c'è Zio Paperone e la corona dei desideri, una storia del 2017, poi c'è la storia superstar di Don Rosa, uscita per la prima volta su Zio Paperone, scusate, Zio Paperone 94, nel luglio 1997, inizia a pagina 107, bellissimi disegni, vabbè ragazzi, i disegni e le storie di Don Rosa, insomma, è stata una bella lettura più che altro, la storia che mi piace di più è Zio Paperone in un altro Natale sul Monte Orso, cioè la prima, quella appunto come detto di Tito Faraci, anche le inedite più o meno mi sono piaciute, scusate, poi c'è Zio Paperone e Rockerda che lo scambio d'affari, Zio Paperone e la moneta senza identità, Zio Paperone e i consigli profiqui, c'è anche Zio Paperone e la sfida del mattone, i segreti del deposito, a pagina 135, 9 storie suddivise in 208 pagine, più o meno 16 pagine in più, devo dire che è stata una buona lettura, non era come letto in previsione d'acquisto, ma sono contento, qui c'è anche il bollino dei 75 anni, quindi l'anniversario del nostro zione, diciamo che meritava l'acquisto perché questa è una collana, insomma, una testata che non acquisto sempre, acquisto solo occasionalmente, avevo acquistato anche il numero 50 che avevo portato anche sul canale e poi ho detto vabbè dai, 75 anni di Paperone si acquista, ho preso anche questo numero 54, non escludo che in futuro potrò ancora acquistare questa testata, devo dire che ci stanno anche le storie presenti, secondo me l'unica pecca è la carta, ragazzi, guardate questo successo alla copertina, mannaggia, questa cosa veramente mi dà un po' fastidio per 3,70€, diciamo che se costa tanto significa anche la carta utilizzata, non è che sia il massimo, però per lo zione questo ed altro, ragazzi, secondo me è una bella lettura, se vi piacciono le storie di zio Paperone in generale, quando si affronta con Rocker, quando ha a che fare comunque sempre con i nipotini, c'è anche una storia di non rosa come detto in mezzo, se vi piace zio Paperone, secondo me questa è una testata che fa per voi, fatemi sempre nei commenti se l'avete acquistato, se vi è piaciuta la copertina, cosa ne pensate in generale di zio Paperone, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, come sempre, fate bravi e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!